Scelto per un esperimento unico dall'Agenzia Spaziale Italiana, Paolo Zamboni collabora maestabilmente oggi con Colonia in Germania, dove Samantha Cristoforetti, con cui ha condotto esperimenti di telemedicina dello spazio, è di base al Centro Astronautico Europeo. A quasi un mese di distanza dall'atterraggio della navetta spaziale Soyuz che ha portato sulla Terra a Astro Samantha, lo scienziato ci parla del suo lavoro di ricerca e delle ricadute che gli esperimenti nello spazio dovrebbero avere sulla Terra, anzi proprio qui a Ferrara, dove il Centro di Malattie Vascolari da lui diretto potrebbe diventare punto di riferimento della telemedicina per patologie neurovascolari complesse e invalidanti. Io avevo considerato questa di Samantha, al di là dell'interesse scientifico straordinario di poter lavorare ovviamente con lei e con gli enti spaziali europeo, italiano e americano, anche proprio una possibilità di prova sul campo di poter estrapolare parametri e di poterli inviare che tutto sommato rappresenta l'essenza della telemedicina. Per esempio su Samantha sappiamo esattamente con che pressione c'era all'interno delle vene, la portata delle vene cerebrali verso il cuore, con che velocità questo si poteva ottenere in relazione anche a meccanismi normalissimi di Samantha come potevano essere il respiro o degli esercizi, quindi la stessa cosa oggi noi la potremmo sapere anche se un paziente da un ospedale periferico invia a Ferrara al nostro centro lo stesso tipo di filmato. Lo scienziato ferrarese ha ricevuto da due recenti articoli apparsi su prestigiosi riviste scientifiche internazionali la conferma autorevole delle sue teorie. Ricercatori americani e finlandesi hanno scoperto infatti la presenza del sistema linfatico nel cervello e quindi della relazione tra sistema nervoso centrale e sistema immunitario, una scoperta in grado di rivoluzionare, conferma Zamboni, l'approccio a malattie neuroinfiamatorie neurodegenerative. È vero, è un po' come quella favola di Menegno Grippe, sembra che il cervello fosse staccato da tutto il resto, invece questa rete linfatica è presente nel cervello ed è legata in un qualche modo alla rete linfatica di tutto l'organismo, quindi è difficile pensare che quello che capita nel cervello sia un qualche cosa che è completamente staccato da tutto quello che ci può capitare.